Se hai un cane sicuramente avrai imparato a capirlo e a comunicare con lui, ma sei in grado di decifrare veramente tutto? Anche mentre dorme ti manda dei messaggi e in questo video li scoprirai! Le 7 più comuni posizioni del sonno del tuo amico e di loro significati. Sono Maddalena e tu sei il suo Adamas Carisma per tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! In un video ti avevo spiegato cosa rivelano della tua personalità le 9 più diffuse posizioni del sonno e in un altro cosa puoi scoprire della tua relazione di coppia da come dormite insieme grazie alle 12 posizioni. Dopo vai a guardarli, ma non posso escludere da questa divertente analisi anche il tuo cane, perché se il nostro linguaggio del corpo non mente mai e rivela tantissimo di noi, soprattutto mentre dormiamo, quando le difese sono abbassate ed è impossibile riuscire a fingere, a maggior ragione lo fa quello dei cani. I cani trascorrono più di metà delle loro giornate a riposare, anche se quanto dormono dipende dall'età e dallo stile di vita di ognuno. Un cane dorme in media 13-14 ore al giorno, ma i cuccioli sonnecchiano ancora di più. Questo sarà anche vero, ma di sicuro non vale per il mio. Però così dicono gli esperti, quindi fidiamoci. Dopo scrivimi nei commenti se il tuo è così dormiglione. Una cosa però hanno tutti in comune sono le posizioni in cui dormono. In molti casi la preferenza di una posizione piuttosto che un'altra può darci degli indizi sulla loro personalità. Scopriamo quindi come si sente in relazione a noi e nel contesto in cui vive individuando le sue posizioni preferite. Tieni presente comunque che i cani, al di là dei vari significati, assumono alcune posizioni che consentono loro di dormire più profondamente oppure di trattenere meglio il calore del proprio corpo o anche di saltare immediatamente all'azione in caso di necessità. Su un fianco. Molti amano dormire adagiati sul loro fianco. Questa è una posizione tranquilla e rilassante. Se il tuo cane tende a dormire così significa che si sente incredibilmente rilassato e confortato dall'ambiente circostante. Sicuro di poter dormire sereno e di tener bassa la guardia perché non avverte alcun pericolo attorno a sé. Spesso cercano qualcosa a cui appoggiarsi. Una gamba umana, il divano, una parete oppure la schiena di un altro cane. È un modo per sentirsi più sicuri mentre dormono. Se utilizzano spesso questa posizione sono molto felici ed equilibrati. La posizione rannecchiata è la più comune. Le zampe stanno comodamente nascoste sotto il corpo e la coda li avvolge. In questo modo il tuo cane vuole conservare il calore del proprio corpo e proteggere le zampe, ma anche il muso e tutte le parti più sensibili e vulnerabili del suo corpo. Non è una posizione da sonno profondo perché per mantenerla i suoi muscoli sono sempre un po' in tensione. viene adottata soprattutto per i sonnellini che nel corso della giornata si alternano ai momenti di attività e segnala che il cane vuole isolarsi per riposare. Non vuole interagire con il mondo. I cani che dormono prevalentemente così sono molto buoni, dolci e accomodanti. Super dog! Dormono sulla pancia con le quattro zampe distese sul pavimento e la testa sullo stesso livello. In quella posizione sembrano Superman che vola. Questa posizione rende molto agevole alzarsi velocemente ed essere subito in movimento. Così se qualcosa attira la loro attenzione possono scattare. I cani che dormono in questa posizione sono pieni di energia e molto giocherelloni. Comunque è più diffusa fra i cuccioli. Zampe pazze! È la posizione forse più buffa e apparentemente la più scomoda. Invece si tratta di quella più rilassata di tutte. Questa posizione denota che si sentono molto al sicuro nel loro ambiente domestico e che hanno piena fiducia nelle persone che lo abitano. Questo perché dormire sulla schiena si traduce ovviamente nell'essere più vulnerabili. Lasciano così esposti gli organi interni e sono anche più in difficoltà nello scappare velocemente in caso di pericolo. Infatti non vedrai mai e poi mai un lupo dormire così in natura. In quanto questa posizione invia un messaggio di sottomissione e vulnerabilità al resto del branco. I cani che assumono frequentemente questa posizione per dormire di solito sono molto rilassati, equilibrati ma con anche una vena indipendente. In ogni caso come la posizione rannicchiata conserva il calore, dormire con la pancia esposta aiuta a rinfrescarsi poiché la pelliccia è molto più sottile attorno al ventre e le zampe trattengono le ghiandole sudoripare. Quindi esporre quest'area è un ottimo modo per combattere il caldo. Pancia in giù. I cani che dormono in questa posizione non sono rilassati in quanto i muscoli sono ancora troppo in tensione per permettere loro di scivolare nella fase REM del sonno. Ma non preoccuparti questo non significa che il tuo cane non sia rilassato in generale nella sua vita. In realtà potrebbe essere anche molto energico e amante dell'esplorazione. Pronto per l'azione e il divertimento in ogni momento. Se invece non è così iperattivo ma comunque dorme spesso in quella posizione potrebbe significare che è un po' schivo, svenuto. È una posizione che a me fa molto ridere. Tanti quando dormono in casa optano per questa posizione. Di solito un cane che dorme in questa posizione lo fa per aiutare il corpo a raffreddarsi più rapidamente. Il più delle volte hanno speso un sacco di energia durante il giorno. Sono felici, sicuri, rilassati, molto fiduciosi e tendono ad adattarsi molto rapidamente a situazioni nuove e diverse. La coccola. Se il tuo cane si rannicchia costantemente addosso a te o lo trovi rannicchiato addosso a un suo amico animale c'è una spiegazione abbastanza semplice che risale a quando erano cuccioli. Da piccoli cani hanno difficoltà a regolare il loro calore corporeo e il contatto gli aiuta a stabilizzarlo. Così da adulti dormire in quel modo diventa semplicemente una sorta di sensazione di conforto. E tu sicuramente lo trovi molto piacevole. Scrivimi nei commenti quale posizione assume più frequentemente il tuo o fammi sapere se assume delle posizioni particolarmente buffe. Divertiti ad osservare il tuo cane mentre dorme e a ricavare qualche informazione. E ricordati di guardare la playlist dedicata alle posizioni del sonno per scoprire moltissime curiosità su di te e sulla tua relazione. Scrivimi nei commenti se vorresti altri video sull'interpretazione del comportamento dei cani. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.